informiamo al viaggiatore del treno regionale, il treno orbe, proveniente da Stradella e diretto a Milano per i punti di rete, delle ore 9.54, arriverà al marino, invece finirà a vicino per i punti di rete, del treno regionale, per i punti di rete, del treno regionale, per i punti di rete del treno regionale, per i punti di rete.